Buongiorno amici, vi racconto la mia routine. Eccomi qua, mi sono svegliata, sono andata in cucina, ho salutato il mio nuovo amico Tyson, vedete che è un nuovo amico. Poi ho fatto colazione, poi mi sono riposata un pochino perché mi scoppiava troppo il pancino, era troppo pieno. Qua ho giocato un po' con la mia umana, l'ho aiutato a fare le pulizie, l'ho fatto io in questa casa. Abbiamo lavato i pavimenti, l'ho aiutato a sistemare tutti i sacchetti che è pieno di sacchetti in questa casa, meno male che ci sono io. Poi l'ho aiutato a lavare questa cosa che non so cos'è, l'ho aiutato a sistemare il cassetto, ho picchiato il mio fratello. Poi l'ho pregata, l'ho pregata, una gallina, scappiamo, gira gira. E poi il prosciuttino, ci vuole il prosciuttino, per il salseccino. Io mi sono riposata, ho un pochino, un po' di merenda, un po' di coccore, un altro spuntino, se ci vuole un altro spuntino per il salseccino. Oh, sì, quanto mi gusta. Poi mi sono spicchiata e poi sono andata a ballare la giù.